Molto sai, fai ricerche dopo ogni spettacolo per capire cosa succede, giusto? Mi piacciono le luci di cui parlavamo prima. Per assicurarsi che lo siano, perché sono luci sofisticate e fanno molto. Penso che ogni giorno imparo qualcosa, chiedo all'addetto alle luci di fare qualcosa di nuovo. Stiamo interrompendo lo spettacolo con nuove canzoni. Ogni volta che ne facciamo una, serve una luce diversa. Quindi penso di chiedergli di provare e fare cose diverse ogni giorno, quindi non so. Hai già visto gli spettacoli prima, ma non so se li trovi diversi. La miccia può essere diversa per sempre. Potresti avere un nuovo spettacolo ogni giorno se volessi.